Non c'è i due dirci. Sì, super giù. 297. C'è la dinamica, è questa. 297. C'è la scala radio sinistra. Parco il commissario. Buongiorno. E così lui sarebbe il testimone, giusto? Sono io. Cioè, lei ha visto tutta la scena del delitto, era qui dall'inizio. Diciamo, sì, ho visto qualcosa. Ha sentito anche quando sono stati esplosi quanti colpi? Due colpi in rapida successione. Lei esattamente dove si trovava quando è esploso il primo colpo? Il primo? Sì. Beh, quando hanno sparato il primo colpo stavo, che le devo dire, neanche... Stavano stati due metri e mezzo proprio ad esagerare di distanza. E quando è esploso il secondo? Oh, tre chilometri. Sì, due a stare. Tu scappa. Tu ancora scappa quando... Vada, 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 vada. Sì. Sì. Sì.